Quali sono state le vicende che hanno scritto le prime pagine di storia del crogiolo? Chi ha svolto il ruolo di pioniere? E quali avvenimenti sono stati trascritti nello specifico per tramandare la memoria ai posteri? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Di sicuro alcuni di voi avranno notato che a volte sotto specifiche carte di Keyforge è riportato un testo menzionato che cita le parole di un qualche personaggio presente sul crogiolo come Inka il ragno, ad esempio, o di un detto proveniente da una qualche tribù Brobnar o Selvaggia. Ebbene quest'oggi scopriremo alcune curiosità provenienti dal pianeta al centro dell'universo che ne andranno a descrivere comportamenti, riferimenti, modi di dire ed esperienze varie che con il tempo hanno arricchito la vita di ogni abitante umano, marziano o cyborg che se ne voglia. Prima di iniziare, se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica, vi consiglio di visitare Fantasia Store, dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta. In descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti. In più, per ogni acquisto che farete potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5% su ogni carrello ogni volta che vorrete inserendo il codice crogiolo 5. Utilizzando il referral link aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari GCC. E se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno, la consegna sarà a casa vostra in 24-48 ore. Cosa state aspettando? Se cercate i migliori articoli, Fantasia Store sarà la risposta. In più, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, dato che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non avete ancora cliccato sul pulsante iscriviti. Pensate che se tutti voi lo faceste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti, quindi il vostro supporto è fondamentale. Datemi una mano a far crescere la community. Basta un singolo clic. Ed ora scopriamo assieme le prime 10 curiosità che, forse, non sapevate fossero avvenute sul Crogiolo. Andiamo a dargli un'occhiata. Queste saranno le casate che, nel contenuto odierno, si presteranno per lo scopo. Sei pazzo ad andare? Vuoi restare con gli Scallion? Questo modo di dire qui sul Crogiolo è sinonimo di morte. Infatti, sull'omonima carta è riportata proprio la dicitura con appropriato significato, un chiaro segnale della letalità di queste creature appartenenti alla casata dei demoni violacei. Si sa che i logotariani siano soggetti poco raccomandabili, soprattutto in fatto di ospitalità. Sapete com'è? Essendo patiti per gli esperimenti, potreste ritrovarvi sbembrati, ma ancora coscienti, nessuna paura, con parti del vostro corpo mancanti, rimpiazzati da ingranati, cibernetici o chissà cosa di tecnologico. È successo per l'appunto di rifiutare gentilmente l'invito dei logos al capitano valgerico, i quali meccanici e scienziati si erano prestati volontari ad ospitare il suo equipaggio. Il testo riportato sulla carta dell'archivista di Ganimede esprime tutta la tragicomicità del momento. Ancora il leader della federazione si è resa protagonista in questo nuovo avvenimento, dove durante le prime esperienze di contatto con le tribù Brobnar ha ricevuto un pugno in faccia. Sulla carta guanto del comando e la racconta di come, chiedendo udienza al capo del gruppo, si sia ritrovata le nocche metalliche di un braccio roboante in mezzo ai denti. Ah, la diplomazia dei Brobnar! Ehi, salve! Ricrescita ha suscitato in me una curiosità particolare. Vediamo se riusciamo assieme a coglierne l'affinità. Il dottore Scotera, colui che ha pronunciato le parole riportate nel box del testo dell'azione selvaggia, dice In fondo al cuore di ogni orso si nasconde un altro orso. Ebbene, a me fa tremendamente pensare alla battuta, dietro la barba di Chuck Norris si nasconde un altro pugno. Non trovate anche voi lo Nox? L'ippopotamo selvaggio apparso per la prima volta in l'era dell'ascensione è la prova vivente della presenza di diversi piani oltre al crogiolo. L'ufficiale scientifico Wu, ad esempio, ne parla chiamandolo addirittura con un altro nome, l'ipnopotamo, affermando che sia l'animale più letale su tre pianeti conosciuti dalla federazione. Magari un giorno vedremo anche noi i tre mondi dove questo temibile predatore dimora. Chissà. Sapevate che il Gruen Peloso, il simpatico servitore selvaggio, è stato scoperto per puro caso dal sempre presente dottore Scotera durante una perlustrazione nelle paludi di Kumois, mentre cercava un'anatra pazza? Nella carta Mimetismo non solo potrete osservare i primi attimi in cui il Gruen ha fatto la sua comparsa, ma anche una delle sue abilità antipredazione, ovvero proprio il mimetismo. Cosa poco riuscita, a quanto pare, dato che l'artwork di Preda Ignara ritrae un grufolatore intento a far di un sol boccone una coppia spensierata e giocherellona di Pelosetti? Quanti di voi hanno conosciuto in qualche modo il programma televisivo Sarabanda? Non ci crederete mai, ma qui sul crogiolo è stato un successo, soprattutto nelle zone dove gli umani vivevano in gran numero. A tal punto che, nella carta Apparato Disturbatore di Casa Marte, il riferimento ad Enrico Papi è più che palese. Moseca! Che adorabili creature e fiutatori! No, scherzo, se credete che i marziani vi odino, vi sfido a ritrovarvi davanti una di queste bestiacce e tornare a casa per raccontarlo. Diciamo che i fiutatori sono gli animaletti domestici del popolo verde e dire che siano un'estensione della xenofobia di questa razza è un vero e proprio eufemismo. Sulla carta raffigurante il cagnolino proveniente dal sistema solare potrete leggere tra le righe tutto il disprezzo che il fiutatore prova verso le altre forme di vita aliene. Altro soggetto che sarebbe meglio non incontrare è il neurodrone Vesima, che non tanto dovrebbe far scalpore per il testo citato. Nulla mi aiuta a riflettere lucidamente quanto la distruzione gratuita, ma tanto quanto che alla guida del velivolo ci sia un anziano. Cosa che mi ha stupito e non poco, dato che di solito la casta in questione si limita a dare ordini e lascia ai soldati il lavoro sporco. Lo avevate mai notato che gli anziani, nello specifico il neurodrone, trovino nella distruzione un loro personale modo di meditare? Beh, di sicuro, dato che quest'ultimo va in giro a fare a pezzi qualsiasi cosa al solo scopo di riflettere lucidamente. Curioso però da parte dei marziani, di solito sono così docili. Ultima curiosità di questo primo appuntamento è la testimonianza da parte di Dodger, il servitore di casa ombre, che riferendosi alle stelle di fosforo, una spezia presente qui sul crogiolo, ne parla come se ne destasse dei ricordi riguardanti i piedi del vecchio Bruno, altro famosissimo servitore della sua stessa fazione. Al contrario, questo alimento sembrerebbe essere un afrodisiaco proprio per i marziani, che ne vanno più che matti. Come si suol dire in questi casi, degustibus non disputandum est. Vi sono piaciute queste prime dieci curiosità provenienti dal crogiolo? Non perdetevi allora i prossimi appuntamenti, in uscita nei mesi a venire, dove andremo a scovare altre nozioni che hanno reso più movimentata la vita qui, sul pianeta, al centro dell'universo. E voi, quante di queste curiosità conoscevate? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.